Buongiorno, sono Floriana Ferrara, faccio parte del team per la trasformazione digitale. Sono una IBM, lavoravo in IBM da 25 anni, sono una master inventor, quindi sono anche un'inventrice. Mentre lavoravo in IBM ho conosciuto Diego Piacentini, che è il commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, che ha creato una struttura commissariata di una trentina di esperti digitali, che ha preso un po' da tutta Italia, da diversi settori e aziende, sia private, pubbliche e soprattutto anche start-up, ha creato questo team affinché la trasformazione digitale riuscisse a partire. Oggi parliamo un po' del valore del digitale, il valore dell'innovazione. Tutto è nato dal perché è così importante l'innovazione. La crescita del paese è direttamente proporzionale all'innovazione di quel paese. Dal 2010 nella comunità europea vengono presi 27 indicatori da tutte le country della comunità europea e viene estilata una classifica, una classifica che viene poi raggruppata in quattro gruppi. Da quelli che sono degli elevati e maggiori innovatori a quelli che sono più moderatamente innovatori. Detto ciò, ci sono quattro macro-categorie, come vediamo qui, che vanno da quante sono le risorse umane che lavorano per quanto riguarda l'innovazione, a anche quanti finanziamenti ci sono, i fondi che vengono messi a disposizione, sia dal settore privato che nel settore pubblico, per aumentare appunto questa innovazione, ai risultati che possono essere anche, per esempio, i pante che sono i brevetti stessi. E qual è l'impatto di questa innovazione a livello della country, a livello dei cittadini in quella country. Se andiamo un po' a vedere a livello mondiale, vediamo che la comunità europea, questi sono dati del 2016, a fine maggio avremo i dati sull'innovazione per il 2017. La comunità europea, come vedete, è stata superata nel 2016 da Australia e Canada. Se pensate che nel 2010 era il terzo posto, man mano sta perdendo posizioni, nel 2015 era il quarto posto, ma è stata superata, appunto, come dicevo, da Canada e Australia. Dovrebbe mettersi un po' più di impegno la comunità europea, altrimenti rischia di essere superata da qualcuno dei paesi emergenti, quindi di quello che vengono in maniera, con l'acronimo BRICS, individuati. Se andiamo a vedere un attimo la situazione, quindi abbiamo detto che la comunità europea non sta messa benissimo, perde posizioni dal 2010 al 2016, insieme a linea per 70. Vediamo come sta messa l'Italia all'interno della comunità europea, dove vediamo che l'eccellenza della comunità europea è la Svezia. Se la Svizzera ne facesse parte, sarebbe per i merito con la Svezia stessa. Leader sono Danimarca e la Germania, ma anche la Finlandia, e l'Italia invece è tra i moderati innovatori. Andiamo a vedere che cosa significa. Significa che, come dicevo prima, sono stati messi quattro categorie, dai innovatori moderati ai innovatori leader. Come vedete la triscetta, la barretta in blu, indica la media della comunità europea. L'Italia nel 2015 era al sedicesimo posto. Nel 2016 invece, l'anno successivo, l'Italia ha peggiorato la sua posizione, passando dal sedicesimo al diciannovesimo posto. Vedremo a giorni che cosa è successo nel 2017. Quindi, dal punto di vista dell'innovazione, la comunità europea non sta messa bene, perde posizioni. L'Italia all'interno della comunità europea non sta messa bene e perde posizioni. Bisogna andare anche a vedere, perché questo è uno studio che farà la comunità europea, è un report che rilascia ogni anno, anche la situazione delle regioni. Quindi, spesso, siccome io sono anche leader del progetto NERD, cioè il progetto NERD non è roba per donne, cerco di fare orientamento nei confronti delle ragazze, portandole verso gli studi dell'informatica. Spesso mi ritrovo, siccome giro l'Italia, mi ritrovo ad ascoltare commenti in cui mi dicono che la Lombardia, o comunque il nord, è molto più innovativo del sud, è il sud che rallenta il passo dell'innovazione dell'Italia. Allora, visto che la comunità europea rilascia anche lo studio per regioni, mi fa piacere farlo notare che comunque sia un giallo più chiaro, un giallo più scuro, però l'Italia è sempre messa alla stessa categoria moderato. Non ci si sfugge. Cioè, siamo in terza categoria. Quindi potrebbe essere che il Piemonte sia al diciassettesimo posto e la Puglia al ventesimo, ma sempre lì dentro siamo. Detto questo, vuol dire che tutta l'Italia deve migliorare, da nord a sud, da est a ovest. Uno dei principali punti di innovazione, di attenzione, che si sta avendo negli ultimi anni, tutte le country si stanno basando a questa innovazione sul digitale. Anche le imprese, quindi sia nel privato che nel pubblico, per rinnovare ci si sta abusando sul digitale. Come vedete, se nel 2016 l'Italian, per quanto riguarda l'innovazione in generale, era al diciannovesimo posto, se facciamo uno zoom e facciamo un filtro soltanto per quanto riguarda il digitale, l'Italia era al venticinquesimo posto, ancora peggio. Da qui è nata l'idea di creare e chiamare un commissario straordinario, che Diego Piacentini, non so quanti di voi lo conoscono, è arrivato in Italia, è voluto dal presidente del Consiglio, e lui è stato chiamato per l'attuazione dell'agenda digitale, e con lui, come dicevo prima, ha voluto un suo team. Questo team con il commissario straordinario è stato creato nel settembre del 2016. Questa è la squadra, come vedete siamo in tutto con il commissario una trentina, e proveniamo da diverse enti, l'informatica non è unica, ha diversi fattori, quindi troviamo la persona esperta in security, la persona esperta in big data, la persona esperta in open source, la persona esperta in analytics, la persona esperta in cloud, in tutto. Perché abbiamo fatto questo? Quando siamo arrivati come team digitale, la prima cosa che abbiamo fatto non è rinventiamo tutto di nuovo, non ci importa cosa è stato fatto fino a questo momento, e noi ripartiamo, partiamo da zero. In realtà siamo partiti, come dice sempre Diego Piacentini, siamo partiti dal primo giorno, ci siamo seduti, e abbiamo analizzato tutto ciò che c'era in Italia, quanto era stato fatto, perché dei fondi erano già stati messi a disposizione già dal 2014, delle piattaforme erano già state fatte, e abbiamo visto perché queste piattaforme non venivano divulgate, non venivano prese. E soprattutto abbiamo creato un acronimo che è appunto, abbiamo parlato di sistema operativo, SEO, in caso di componenti che permettono di costruire servizi più semplici per il cittadino, basandosi appunto su tecnologia digitale. Una delle cose che è stata fatta, ed è importantissimo, è il piano triennale. È la prima volta che il piano triennale viene firmato per quanto riguarda la trasformazione digitale. È stato firmato a maggio del 2017 dal Presidente del Consiglio, che all'epoca appunto era Gentiloni. La cosa bella di questo piano triennale è che dura tre anni, dal 2017 al 2019, ma dato che la tecnologia evolve in continuazione, anche questo piano triennale evolve, quindi man mano noi lo andiamo a modificare. Una cosa che mi ha sorpreso, perché io vengo da un'azienda privata, è trovare anche dei codici di legge in cui c'era scritto in COBOL che istruzioni bisognasse fare. Quindi se pensiamo che all'interno della pubblica amministrazione per fare un prodotto innovativo, recente, bisogna mettere dentro delle istruzioni in COBOL, qualcosa non quadrava. Quindi una delle cose che abbiamo anche fatto è ripulire i codici. Questo è quello che noi chiamiamo la nostra piattaforma, dalla sicurezza alla Data Analytics Framework, che è il nostro DAF, ai servizi digitali, a tutti gli ecosistemi. Stiamo prendendo anche in considerazione gli ecosistemi, dove gli ecosistemi, altro non sono che tutti quei ministeri con i loro enti satelliti, perché portano avanti dei progetti per la digitalizzazione. Vi faccio un esempio, il fascicolo sanitario elettronico, dove è il Ministero della Sanità che guida insieme al Ministero della Finanza, ma insieme ci sono tutti quegli enti che vanno dalle regioni, ai medici, al cittadino come paziente stesso. strutture private, pubbliche. Quello che vedete, sulla quale ci siamo molto basati, sono le infrastrutture materiali, che vanno da C, Speedpago, PA, Fattura, PA, NPR, Noi, PA, perché sono tutte cose che prima c'erano, c'erano già, e molte di queste erano state sviluppate e finite. Quindi dicevamo, fondi, dati, persone, Sogei o altri team, enti, che l'avevano sviluppata, ma il numero di adesioni di comuni o enti che lo utilizzavano, cittadini stessi, è scarsissimo. Adesso vi faccio anche vedere dei dati. Tutti i nostri progetti del team digitale sono sul nostro portale, che è il www.teamdigitale.it, sono tutti elencati sotto la voce, appunto, progetti. Ma che cos'è la trasformazione digitale? La trasformazione digitale è intesa come tutti quei cambiamenti basati sulla tecnologia digitale. E la trasformazione digitale può essere presa in considerazione come terza fase della digitalizzazione di un paese, dove prima intendiamo andare a cercare quali sono le competenze, divulgare le competenze, dopodiché costruire qualcosa di digitale, quindi tutti quei tool che permettono la digitalizzazione. La trasformazione è quando si divulga e veramente tutti lo utilizzano, che tutti intendo dagli enti alle strutture private, pubbliche, ma anche al singolo cittadino. Questo perché l'innovazione migliora, come avete visto, se è basata sulla digitalizzazione. Vado avanti velocemente, questo ve l'ho già detto. Vi raccontavo che c'erano già alcuni delle piattaforme. Noi altro che abbiamo fatto è ridare energia ad alcune di queste piattaforme abilitanti. Uno è Pago PA, pagamenti della pubblica amministrazione. Pensate, era una cosa che già esisteva, dove il cittadino paga la pubblica amministrazione utilizzando un nodo che si chiama Pago PA, dove dietro a questo Pago PA c'è la propria banca, quindi la banca che uno utilizza normalmente. Il gruppo di lavoro tra il team digitale, la SIA e l'AGID, agenzia digitale. Noi non siamo all'agenzia digitale, siamo una struttura a parte. i benefici per lo Stato a un'automazione della rendicontazione dei conti stessi, degli introiti e una centralizzazione dei pagamenti. Mentre per il cittadino una semplificazione dei pagamenti, ma ora vi farò anche degli esempi, possibilità appunto di usare degli strumenti digitali innovativi, dal proprio cellulare o dai propri qualsiasi meccanismo che si voglia utilizzare per andare a fare il pagamento e poter utilizzare il proprio home banking. Quando siamo arrivati noi verso, come vedete, da quasi zero, man mano, mese per mese la cosa sta aumentando. Noi siamo molto soddisfatti perché il 164% di incremento nel giro di un anno è veramente tantissimo. Negli esempi del perché è positivo, ve ne le faccio subito. L'Atari a Milano nel 2017 si è decisa di farlo pagare tramite Pago.pia. quindi dal sito del comune si può pagare l'Atari facendo che? Da casa. La differenza tra quest'anno che è stato introdotto il pagamento Pago.pia all'anno precedente che non c'era il pagamento con pagamento Pago.pia ma c'era il pagamento normale andando agli sportelli la differenza è stata evidente. Dopo una settimana il 40% nel 2017 di pagamenti in più rispetto all'anno precedente e soprattutto la maggior parte dei pagamenti è venuta la prima domenica pomeriggio a disposizione. Questo vuol dire che il cittadino ne ha beneficiato perché non ha perso più il tempo non ha preso mezza giornata di ferie per andare a pagare una tassa. Gallarate. Gallarate che ha fatto? Ha messo il pagamento della Tavi e ha dato anche uno sconto di 10 euro ma questo non l'ha fatto soltanto Gallarate man mano i vari comuni molti comuni soprattutto quelli piccoli che stanno prendendo come pagamento il pago PA stanno incominciando a fare degli sconti dai 10 ai 5 euro che non è male. Da gennaio 2018 è possibile pagare col pagamento PA e man mano stiamo aumentando tutti quei comuni che utilizzano per far pagare i propri cittadini. ANPR è l'anagrafe nazionale unica. Io non lo sapevo da ignorantissima venendo da un'azienda privata che ogni comune aveva la propria anagrafe aveva il proprio database con software house che gestiva quell'anagrafe ognuno aveva il suo che non si parlavano tra di loro e nelle grandi città anche ogni quartiere poteva avere la sua anagrafe e questo che significa? Un esempio semplice devo fare un trasloco devo cambiare residenza da una via a un'altra all'interno dei comuni piccoli bastava andare allo stesso comune all'interno di una comune grande devi fare tutto l'iter di tutta la certificazione e portartela da un quartiere all'altro ma voi immaginate se doveste fare un trasloco da una città all'altra un esempio è mia sorella che è andata controcorrente all'estate scorso si è trasferita da Como a Taranto e che cosa ha fatto lei? dopo che si è trasferita è tornata una settimana dopo a Como quindi pagando il treno prendendosi una settimana di ferie perché non è che puoi andare a casa la sera mentre fai tutti questi documenti pagandosi l'hotel per fare tutti quei documenti che servivano per il trasferimento con delle cose che abbiamo scoperto pazzesche i vaccini i vaccini in Lombardia si fanno per i bambini in età differente per i vaccini in Puglia quindi mio nipote che doveva fare a sette anni il vaccino in Lombardia per non mi ricordo cosa in Puglia quello stesso vaccino si faceva a cinque anni quindi mia sorella quando ho preso la residenza a Taranto si è ritrovata con il figlio che era fuori legge da due anni per quanto riguarda un vaccino quindi ci sono anche delle differenze e ho dovuto fare tutti questi step da solo capire quali erano i problemi tutto da solo se avessi avuto un'anagrafe nazionale unica e quindi tutti i comuni che migrano su un unico database vediamolo come un unico database ma è molto di più su un'unica piattaforma il trasloco di una residenza viene fatto attraverso il proprio computer il proprio iPad non c'è bisogno di dover andare e fare tutta la documentazione per un trasloco che cosa abbiamo fatto? ANPR esisteva quando siamo arrivati noi già esisteva fondi dati tantissimi fondi credetemi finita era stata sviluppata l'ente che l'aveva in mano la doveva creare l'aveva fatto era pronta però mancava il divulgarlo non c'era nessuno che faceva non dico bussare comune per comune ma quasi perché è quello che stiamo facendo per invogliare spiegare ai vari comuni quali erano i benefici quando siamo arrivati noi c'era un solo comune e sono quasi 8000 comuni quindi fondi dati sviluppato e pronto e nessuno che lo prendeva quindi noi ce ne siamo occupati qualche vantaggio si pensa che soltanto per quanto riguarda le ore 3.5 milioni di ore risparmiate dalla pubblica amministrazione per i traslochi dicono che si fanno 8000 traslochi al giorno sono dati che mi sono pervenuti perché io non lo immaginavo così tanto e per i cittadini lo dicevo prima fare tutto da casa come pagare la tassa prima il gruppo di lavoro è il ministero degli interni noi che facciamo da pubblico office ma con il nostro zaino che andiamo a bussare tutti i comuni facendoli capire l'importanza e Sojay una cosa che stiamo facendo proprio per divulgare tutte queste piattaforme abilitanti viene chiamato Roadshow noi andiamo nei territori perché ovvio è facile arrivare nelle città come Turino Milano Roma ma nelle città dei territori un po' più lontani è un po' più difficile che i sindaci e i comuni possano seguire e possano capire e avere la stessa attenzione che hanno i grandi comuni quindi abbiamo fatto un Roadshow a Taranto abbiamo fatto un Roadshow a Trento abbiamo fatto un Roadshow a Perugia e la cosa bella è che dopo che passiamo e dopo che raccontiamo il valore di tutte queste piattaforme soprattutto nei PR i comuni incominciano a passare dopo che siamo passati in Umbria dove c'era soltanto un comune quando siamo andati a raccontare molto simile a quello che sto facendo oggi con voi quando siamo andati a raccontare di queste piattaforme abilitanti dopo tre mesi sia Perugia che Terni sono subentrate perché ne hanno capito il valore questi sono un po' di dati ve lo dicevo che sono sono più di quasi 8.000 comuni ad oggi sono 144 aumentano sempre di più arriveremo a fine mese 200 vediamo che la macchina diventa sempre più veloce siamo partiti da uno però per arrivare a 7.000 e tot quasi 8.000 ce ne vorrà ci vorrà tanto tanto entusiasmo da parte del comune di volerlo fare perché i benefici non si discutono sì esatto la cosa bella è che lo Stato abbiamo detto che ti ha dato i fondi per crearla quella l'unica l'ha fatta perché l'ha fatto un ente dello Stato in più dà anche i fondi ai comuni per fare questa migrazione vanno da 1.000 a 7.000 euro affinché loro possano pagare le loro software house per fare la migrazione e non sono da soli perché sono seguiti da noi noi abbiamo fatto anche delle linee guida facciamo tipo call center siamo a disposizione per tutti e se vogliono andiamo anche a spiegare come le loro software house devono fare non c'è nessun ostacolo se non la voglia di farlo un'altra delle piattaforme è la CIE la CIE è la carta di identità elettronica anche qui carta di identità elettronica fatta assolutamente i suoi benefici sono tantissimi pensate soltanto alla sicurezza noi all'estero siamo veniamo un po' ci prendiamo un po' in giro perché con la nostra carta di identità è quella più facilmente falsificabile a Taranto fino a qualche anno fa la scrivevano addirittura a mano la mia più vecchia carta di identità era scritta a mano quindi falsificarla veramente non era così complicato adesso la carta di identità elettronica che è pure anche questa sta avendo una difficoltà per essere divulgata ancora perché? perché ci sono dei tempi di attesa noi speriamo che questi tempi di attesa almeno per la pronunzazione nei confronti del comune migliorino sempre di più e diminuiscono sempre di più ma il beneficio è incredibile adesso ve lo racconto vi dicevo prima di tutto è sicura prima di tutto è sicura non può essere falsificabile a Microsoft interno pensate agli hotel quando andate nell'hotel dovete dare la carta di identità loro la devono fotocopiare e poi devono passare i dati se si ha la carta di identità elettronica wireless quindi contactless si dà la propria la propria CIE e automaticamente dal dispositivo che costa 30 euro viene automaticamente tutto registrato di tutti i dati vengono passati ma quali dati? siccome la carta di identità ha quello che avevamo prima nella carta di identità normale nome, cognome stato, civile data di nascita se era valida per l'espadre o meno adesso ha molte più informazioni fra cui è anche l'impronta digitale però l'impronta digitale può essere vista soltanto dalla polizia soltanto dalle autorità non può essere vista da nessuno e soprattutto per dato degli algoritmi che hanno per il riconoscimento che cambiano in continuazione se uno cammina per strada e qualcuno ha uno di questi dispositivi che potrebbero prendere i dati non è possibile scaricarli questa ha due funzioni la carta di identità elettronica la prima è quella di verificare l'identità come quella vecchia la seconda è l'accesso ai servizi e questa è una cosa con la quale stiamo spingendo perché vogliamo che quanto prima venga attivata dalle pubbliche amministrazioni e non solo affinché venga utilizzata anche come carta di identità io qui ho un certo numero di schedine patente ho quattro badge ho il badge per presidenza del consiglio Palazzo Chigi ho il badge per la cassa dei posti di presidi dove abbiamo anche lì un ufficio ho il badge per la corte dei conti ho il badge per per entrare in Agid l'agenzia dell'agenzia del digitale quattro badge ogni volta puntualmente mi dimentico quello giusto dove devo andare la mattina poi ho la ho la tesserina perché io abito ad Albano lavoro a Roma quindi vado con il treno con i mezzi quindi mi porto dietro anche la tesserina un macello basta se andiamo ad attivare quei servizi la carta di identità elettronica mi serve anche per questo mi serve anche per i tornelli e passare mi serve anche per quando vado a fare vado sul treno quindi per passaggio per la mia per il mio come si dice abbonamento ma abbonamento su tutto fino anche a arrivare e qui sogno perché sono un'inventrice supermercato i punti per l'esse lunga e panorama sempre la stessa schedina e la carta tessera sanitaria sempre la stessa schedina perché ne devo portare me ne basterà una e poi vabbè quella del banco ce la faremo scusatemi ho detto che avrebbe avuto dei problemi e quindi la CIA la sua importanza il problema che stiamo avendo in questo momento è per quanto riguarda le prenotazioni a Firenze si può andare direttamente allo sportello e richiedere direttamente la carta di identità elettronica ad Albano dove abito io dalla prenotazione a quando sono potuta andare allo sportello per fare la carta di identità elettronica sono passate due settimane in città tipo Roma passano da 3 ai 6 mesi a seconda in quale quartiere si abita poi ci sono i tempi di attesa perché una volta che vai allo sportello ti riconoscono e dai tutte le informazioni la fotografia che comunque è digitale e tutto il resto devi aspettare quella da una in cui sei giorni ma arrivano anche due settimane per poter avere la carta perché viene tutto appunto memorizzato all'interno della carta stessa non è esterno è dentro la carta sono le informazioni sì 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 ma la resistenza la troviamo dappertutto facendoli notare i benefici facendoli notare i benefici soprattutto in quanto nei tempi benefici anche economici perché una cosa che stiamo facendo anche tantissimo non la posso divulgare qui nella pubblica amministrazione facciamo vedere i benefici perché non dare tutte quelle schedine o niente alla propria schedina alla propria tesserina anche questo comunque è un costo fanno resistenza sì sì poi in quei casi in quei casi mandano me perché io l'io allora quello che stiamo facendo è tanta education quindi anche nelle scuole della pubblica amministrazione noi stiamo andando quindi oltre a lavorare i tempini di laboratorio perché siamo chiusi lì a scrivere codici o amplificare come fare il project manager niente non si vuole riprendere ho detto che era troppo forte come botta che cosa? la digitalizzazione è una deburocratizzazione è una deburocratizzazione ovviamente i burocrati fanno resistenza quello sempre ma quello certo certo però lì andiamo noi raccontiamo che non è una cosa di adesso è nell'evoluzione dell'uomo nelle quattro rivoluzioni industriali che questo accade quindi cominciamo raccontando che la prima rivoluzione industriale è stata la rivoluzione tessile quando è arrivata il telaio automatico e per fare un tappeto ci volevano 15 addetti al telaio quando è arrivato il telaio automatico bastava uno quindi che fine hanno fatto quei 14 quei 14 quei 14 sono diventati niente non si riprende quindi andremo a memoria esatto a quelli più creativi che cosa è successo? si è creato più tessuto ma creando più tessuto si sono creati anche degli stilisti perché avevi dei tessuti quindi più sarti ma avendo più tessuto potremmo anche colorarlo ma non solo colorarlo e quindi fare delle trovare i chimici finalmente perché colorano ma anche trovare dei designer di tessuti e cominciano nella fine del 1700 a vedersi anche dei designer dei tessuti stessi quindi i disegni non erano più tutti uniti con un colore tutto unito non si riprenderà più no è che quando cade così con la batteria ah ecco è andato è andato vedi la tua presenza l'età avanza quindi gli occhiali sono necessari no 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 penso che adesso faccio effendere grazie a tutti perché noi donne noi donne non molliamo no ho appena detto ah ok oggi sono rimasta veramente male sul treno mi sono da essere qui oggi mi sono svegliata alle 4 del mattino ho preso il treno dal Bano e poi ho preso la coincidenza per venire qui e partiva da Roma alle 6 allora sono andata nella nella carrozza bar e ho chiesto un cappuccino e anche un giornale che dentro il tre frecce rossa danni in omaggio e l'ha detto al bar mi fa no signora non abbiamo né chi né gente abbiamo soltanto i quotidiani ho detto veramente volevo ho repubblico il corriere mi va benissimo e lui alla fine ha farfagliato guarda queste donne adesso leggono pure i quotidiani non ho risposto male mi è successo anche durante una presentazione in una grandissima azienda dove c'era un amministratore delegato con tutto il suo consiglio di amministrazione e dovevo fare questa riunione quindi una riunione a tavolo c'erano 10 posti e poi siccome eravamo tanti c'erano dei posti in seconda fila quando sono arrivata siccome dovevo parlare io sapevo di dover parlare mi ero seduta al tavolo mi hanno chiesto di spostarmi indietro per dare spazio ad altra gente ho capito che cosa stava succedendo ma io ho detto non sono molto buona in quell'occasione sapevo che li avrei fatto male e quindi mi sono spostata indietro e attendevano attendevano all'arrivo del saluto dello speaker ho detto ma chi attendiamo? attendiamo il master inventor Ferrara ho detto sono io anche l'amministratore signora senta l'amministratore delegato mi guarda e mi fa ma lei è una donna? ho detto sì ne sono consapevole è rimasto veramente male non ho chiuso il contratto però quindi oh ci siamo eravamo qui e quindi si sono reinventati così quando mi dicono faccio un altro esempio faccio l'esempio delle candele un tempo all'interno delle abitazioni c'erano le candele all'interno dei comuni c'erano dei punti in cui c'era l'addetto che tutte le sere andava a accendere le candele che cosa è successo ad un certo punto? nel momento in cui c'è stata l'energia la corrente elettrica le lampadine tutti gli addetti sia comunali che accendevano i ceri le candele che all'interno e tutti quelli che facevano le candele le vendevano hanno perso il posto di lavoro ma non lo hanno perso si sono potuti trasformare in elettricisti nelle fabbriche per fare i fili elettrici nelle fabbriche per fare le lampadine l'importante è trasformarsi è volerlo trasformare così come gli addetti ai timbri la possibilità c'è perché corsi nella pubblica amministrazione per la trasformazione ce ne sono tanti io per prima con i miei colleghi facciamo 8-8 ore ogni settimana se uno si vuole vuole migliorare e vuole fare un lavoro differente può farlo e così per i treni quando hanno tolto le carrozze io oggi non ce l'avrei mai fatta ad arrivare con la carrozza dovevo partire due giorni prima che fine hanno fatto tutti quelli che portavano le carrozze si sono trasformati in conducenti dei treni in tutti quelli che fanno i binari a chi crea i vagoni a chi ammetteva i treni e i vagoni insieme a controllori molti più posti di lavoro di prima anche adesso si pensa che la Comunità Europea dice che nel 2027 ci saranno 900.000 posti di lavoro non occupati perché non ci sono le competenze di quei settori nel settore digitale quindi da qui quello che dicevo prima progetto nerd vado nelle scuole e cerco di invogliare le ragazze a studiare informatica perché lì ci sono posti di lavoro nelle aziende private non si fa in tempo a farli laureare i ragazzi basta che mancano 4-5 esami nelle aziende private vengono presi li mettono a disposizione per poter continuare i ristudi e quindi lavorare la mattina e studiare il pomeriggio e pochissimi si devono laureare perché poi ovviamente ci mettono d'accordo e avvisano che dentro due anni si devono laureare e li mettono nelle condizioni di farlo perché i posti di informatici sono pochissimi e più andrà e più sarà così questa è la CIE come vedete anche lì da quando è arrivato il tema digitale anche qui abbiamo una persona che segue insieme all'agenda digitale i valori siamo stati invasivi abbiamo veramente fatto destraptive abbiamo creato quella distrazione che ha permesso di fare il cambio e con Diego Piccintini non si scherza lui tutti i giorni fa un meeting con tutti noi per sapere le evoluzioni anche di queste piattaforme che non ha creato lui lui le sta soltanto divulgando Speed è un'altra quanti di voi conoscono Speed sistema pubblico identità digitale perché ogni volta che devo entrare in un ente mi devo prima registrare voglio il fascicolo sanitario elettronico mi devo registrare alla regione non è banale registrarsi poi alla regione voglio andare a fare un servizio del comune di Torino mi devo registrare però sono a Milano mi serve un servizio di Milano mi devo registrare ah ma devo fare l'Ips perché mi serve ISEE per la scuola mi devo registrare N.000 registrazioni se abbiamo Speed con un'unica sola registrazione non mi devo registrare devo soltanto accedere mi arriva il QR code io prendo il mio cellulare lo inquadro entro non mi devo più ricordare password non mi devo ricordare che voglio accedere dovevo iscrivere mio figlio per la mensa dell'anno prossimo per il pulmino dell'anno prossimo non mi sono registrata al comune del mio paese ma sono entrata tranquillamente con Speed questo è un infatti quattro mila in questo momento su incertiviamo raccontando raccontando no raccontando e poi agevolandoli agevolandoli perché adesso abbiamo messo tutto a disposizione ci vuole mezz'ora in mezz'ora come prima abbiamo fatto le linee guida noi abbiamo fatto le linee guida per tutto da pago PA NVR C non devi sforzarti non devi fare nulla per mezz'ora ti diciamo primo step ti diamo il logo non devi andare a chiedere il logo a nessuno è tutto nel tuo pacchettino fai tutti i ripassi e lo metti nel tuo sito in mezz'ora riesci a metterlo su vedendo quanto è veloce avendo ostacoli zero e potendolo fare una qualsiasi addetto sta incominciando a diventare sempre più sempre più veloce questo stanno incominciando a ragionare questo perché sarebbe una svolta nelle banche nelle proprie aziende io per entrare un domani quando tornerò forse in IBM entrerò con speed senza dover avere la mia autenticazione un'unica un'unica la carta di identità elettronica è quello è per accedere dal punto di vista fisico fisico questo è per accedere dal punto di vista digitale uno è fisico e l'altro è digitale giustamente le diceva che speed è molto famosa se andiamo a vedere l'età di chi ha fatto questa speed uno dei numeri elevati esce fuori che i ragazzi degli ultimi due anni una volta compiuti 18 anni per avere il bonus 18 anni che erano tot euro da acquistare per i libri perché era del mio euro messo a disposizione hanno dovuto fare la speed ma anche le donne sono state interessanti adesso se vogliono il bonus mamma devono avere la speed e poi l'altro numero che abbiamo notato erano tante donne all'inizio ero molto contenta che le donne fossero più smart e gli uomini avessero capito prima l'importanza della speed in realtà abbiamo scoperto che c'è il bonus insegnante e siccome tra insegnanti ci sono più donne che uomini da lì il valore come? e invece nella scuola privata ci sono più ah non c'è ah sì quello non c'è bonus il gruppo di lavoro dimmi il gruppo di lavoro è tragi del team digitale e anche qui una volta che è arrivato il team digitale non parlo di me ma parlo degli altri 28 ragazzi una volta che arriva il team digitale c'è poca storia deve macinare deve correre dobbiamo vedere la differenza queste sono le speed attive come dicevo intorno ai 4.000 intorno ai 4.000 PA le PA sono intorno ai 14.000 quindi pian piano ci stiamo muovendo ci sono 8 identity provider dalle poste a team anche nomi un po' meno conosciuti una volta che viene fatto è per sempre non bisogna rifare poi speed con gli altri provider ne basta uno solo ma non stiamo facendo soltanto queste piattaforme abilitanti che già esistevano non stiamo facendo soltanto dei divulgatori stiamo anche proprio sviluppando stiamo creando dei nostri progetti questo è quello che vi raccontavo prima dei progetti che stiamo portando avanti sono ad esempio developers Italia per poter essere abbiamo detto che adesso l'evoluzione il digitale e quindi lo sviluppare e quindi il programmare quanto possiamo essere veloci visto che dobbiamo fare un bel passo dal 25esimo posto per arrivare tra i primi posti c'è una bella classifica da scalare da soli non ce la potiamo fare noi siamo soltanto 29 molti di noi inseguono i comuni per convincere nelle varie piattaforme un gruppo un gruppo con Giovanni Baio uno dei nostri ha creato The Veropers Italia che significa tutti quegli sviluppatori che vogliono lavorare con noi in open source possono farlo noi diamo tutte le informazioni le linee guida i progetti tutti aperti tutti i codici aperti e tutti gli sviluppatori che ci vogliono aiutare ci aiutano e sviluppano insieme a noi abbiamo fatto degli hackathon anche e sono bravissimi poi ovviamente c'è un controllo del codice che viene fatto ma incredibilmente e anche questo venendo da una società privata a me l'ha sorpreso è più sicuro un codice open source che un codice invece chiuso un codice open source viene toccato maneggiato ricontrollato e soprattutto gli amanti dell'open source guai se qualcuno mette in poca sicurezza il proprio codice quindi c'è una bella attività di sicurezza e ho scoperto che questo era molto più sicuro e questa era una diffidenza e un ostruzionismo che io all'inizio facevo dicevo no nella pubblica amministrazione come facciamo con l'open source invece no nei signers Italia ogni sito che andate un sito differente direste mai che della stessa nazione ognuno usa i propri colori i propri loghi le proprie scritte il proprio modo di dialogare con il cittadino tutti completamente differenti fascicolo sanitario elettronico abbiamo 21 fascicoli 19 regioni più le due province autonome Borzano e Trento 21 fascicoli sanitari elettronici che da Luc e Fil non c'entrano niente Luc e Fil sarebbe la parte visibile la GUI colori servizi con l'importanza mostrata completamente differenti a questo punto Designers Italia ha scritto delle linee guida affinché almeno quando creiamo un nuovo sito abbia in Italia almeno per gli enti per le pubbliche amministrazioni abbiano un non so che è uguale ci sia un minimo comune multiplo tra di loro Data Analytics Framework è una piattaforma queste sono tutte cose che abbiamo fatto noi è una piattaforma che consentirà a tutti quegli enti che la migreranno di avere tutti i dati in condivisione pensate adesso dovete i vostri dati sono su IMS su INAIL fascicolo sanitario elettronico sono tutti disgiunti quando in realtà sarebbe bello avere tutto insieme per gli informatici immaginate un'unica bella riga con tutti i campi con tutte le mie informazioni INAIL professionali chi sono dove lavoro dove abito tutti in uno quanti figli ho tutto là tutto accedibile facilmente l'ISTAT sarebbe fantastico quando deve fare l'ISTAT un qualsiasi tipo di analisi infatti è uno strumento molto utilizzato per fare anche analisi data analytics framework e poi c'è l'app della cittadinanza digitale stiamo cominciando a parlare in questi giorni c'è questo grande sogno e ci stiamo muovendo fare tutto attraverso un'app non devo più accedere agli enenti differenti posso anche ma se io voglio fare tutto attraverso la mia un'app della pubblica amministrazione io posso farlo progetto nerd quindi sono un master inventor con 20 brevetti nel digitale sono in questo momento un onoratissimo membro del team digitale ma nel mio tempo libero pochissimo in questo periodo seguo questo progetto nerd non è roba per donna l'informatica e io dimostro che lo è ragazze dei 14 15 16 anni le sarà bravissima li porto all'interno dei laboratori di informatica all'interno di tutta Italia quindi convinco i laboratori di informatica dell'università ad aprirmi le porte darmi i loro laboratori venerdì pomeriggio e porto le ragazze delle varie scuole superiori per tre venerdì pomeriggio dentro questi laboratori in streaming insegno loro a fare una chatbot una chatbot è immaginate whatsapp una chat in cui dall'altra parte invece di esserci un vostro amico un vostro conoscente c'è una c'è un'intelligenza si chiama intelligenza artificiale a me piace di più chiamarla intelligente aumentata perché mi aiuta in più l'intelligenza artificiale spaventa aumentata invece è molto più carina secondo me dà più l'idea anche di quello che fa perché non è non è un'intelligenza artificiale ma è soltanto più veloce e noi insegniamo alle ragazze a fare questo ragazze di 15-16 anni fanno delle chatbot le più belle vengono premiate e quest'anno l'abbiamo fatto a Roma ad Alessandria l'abbiamo fatto a Milano a Padova Napoli e Bari abbiamo raggiunto 7000 ragazze e il successo ora ve lo racconto è come lo vediamo perché le ragazze dopo siccome è dal 2012 che faccio questo progetto dopo due anni vado a vedere queste ragazze quando poi sono arrivate al momento dell'università si sono iscritte sono partita con questo progetto nel 2012 a Roma perché con la professoressa Velardi abbiamo scoperto professoressa della Sapienza c'erano 7 ragazze iscritte a informatica a Roma dopo due anni del progetto NERD abbiamo avuto 123 ragazze tutte 123 nel forum delle iscrizioni avevano cliccato che avevano seguito il progetto NERD noi siamo anche andati a controllare perché da diffidenti le 123 ragazze in realtà erano 150 quelle che avevano seguito il progetto NERD ma 123 si sono iscritte al progetto NERD quindi insomma riusciamo a coinvolgere le ragazze queste sono un po' di viste di quello che facciamo come vedete in streaming facciamo lezioni in tutti i laboratori quest'anno abbiamo avuto contemporaneamente 2000 ragazze collegate i progetti che consegnano se lei riesce a fare quello che fa a 7 anni sì sì però immagino che lei a 14 anni 15 anni darà tanta soddisfazione grazie a tutti ho finito grazie a tutti 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 grazie a tutti